Io sono Alice Guidi, sono originaria di Fano, vivo a Roma. Questa esperienza è molto importante e la cosa bella è poter lavorare con questi ragazzi che sono di un grande talento, di una grande professionalità, quindi per noi e per me è stato veramente semplice integrarmi e lavorare in questo ambiente. Il personaggio della Primordia è un personaggio crudele, freddo, rancoroso all'inizio ma tutto questo nasconde un grande dolore ed è questa la bellezza di questi personaggi che sono veramente umani e veri. Grazie